Ciao a tutti da Saridore, bentornati su Eurotrack Simulator 2 In questo episodio con la signorina Darlavia porteremo terrore e distruzione nei paesi nordici Ma non aggiungo altro, buona visione Signorina Darlavia, ma quanto tempo che non ci vediamo, ma come va? Ma come va? Chissà cosa ha combinato in questi momenti, in questi periodi dove io l'ho lasciata sguazzare nel fango come piace proprio lei Allora, signorina, io direi che potremmo andare a fare un po' un lavoro, fare qualcosa Perché siamo già stati sugli allori fin troppo Allora, signorina, avremo un Venezia Lussemburgo, ma siamo già stati da entrambe le parti Abbiamo questa perforatrice, che palle, eh Sassari Parigi, uguale, ci siamo già stati Qui ci siamo già stati, assolutamente sì Allora, però qua abbiamo una locomotivinchia alla faccia Dalla Norvegia alla Svezia Il nome? Sì, facciamo finta che l'abbiamo capito Io direi che ci possiamo fare questa I paesi nordici, non ci siamo mai stati Praticamente, anzi, la Svezia proprio non ci siamo proprio mai stati Come se questo? Ok, signorina, eccoci qua Siamo arrivati, sì Abbiamo fatto il trasferimento veloce E si è costato la bellezza di 1500 euro, eh Io la butto lì Quindi, signorina, sappia che siamo già sotto A prescindere Ok, signorina, muoviamoci verso il punto D'arrivo che sono a 32 chilometri Ok, va bene Mi torno in cabina quando può, gentilmente, grazie Gentilissima, eh Ok, signorina, eccoci giunti Finalmente, ce l'abbiamo fatta Sì, ecco Ok, ciao, buonasera Buongiorno, veramente, siamo arrivati Sì, eccoci Ok, vediamo un pochettino cosa vogliono da noi Ok, ecco qua la nostra locomotiva Sono 950 chilometri la faccia Si pagheranno 45 Praticamente poco e niente 45.000 Eeeh In 12 ore dovremo arrivare a destinazione Forse sì Ok, accettiamo tutto E mettiamoci al lavoro Dov'è? Oh, ecco qua il nostro motore Ok Ma cos'è, un gasolio, un diesel? Boh, non lo so Poi ci vediamo Poi ci vediamo Signorina, mi fassi una manovra come si deve La ringrazio Ok Prepariamoci ad agganciare il nostro motore Eeeh Signorina, mi raccomando, eh Ok No, non è difficilissimo Ce l'abbiamo fatta Ok Tanto là dietro vedo uno che non fa un cazzo Come il suo solito, eh Ok Andiamo Ok Abbiamo agganciato tutto Signorina, mi può attaccare il lampeggiante Già che ce l'abbiamo e l'abbiamo pagato Grazie Allora A vederlo così Sembra un motore Un locomotore a gasolio Potrebbe essere, eh Sì, sì, sì Sì, sì Perché ci sono Sia quelli a gasolio Che quelli elettrici Vabbè Signorina, ci muoviamo Cosa facciamo? Grazie, eh Quante volte finiremo su un fianco con Stafari Non ne ho la più palida idea Ma saranno sicuramente tante conoscendola Ok Signorina, quando vuole Mi torna in cabina La ringrazio tantissimo, eh E vai La prima cannonata Appena usciti Perfetto Questo sa giù Sì Sembra un viaggio di quelli Sì, ecco Ho già paura, eh Signorina, eravamo già su un fianco quasi, eh Già su due ruote E abbiamo fatto Poco Avremmo fatto 15 chilometri Non male Allora Io, cosa è successo? Non ne ho la più palida idea Non c'è nulla Non ho picchiato contro nulla Il camion davanti si è impennato E sono andato dritto qua Un bug? Probabilmente sì Probabilmente sì Iniziamo benissimo il gioco, eh Signorina, una macchina fotografica Dobbiamo fermarci L'avremmo già fatto? Non lo so, non mi ricordo Ok, signorina, eccoci qua Non so se questo selfie gliel'ho già fatto Comunque Dai, che qui siamo Mi tira l'anima tantissimo Che non posso uscire dal ponte Cioè, io devo rimanere soltanto qui In questa zona Non posso mettermi, ad esempio, di lato Per inquadrarlo meglio No Vabbè Pazienza Ci accontenteremo Intanto le faccio il selfie Signorina contenta Torniamo in cabina, va? Ne abbiamo fatto un'altra Signorina, è contenta? Sì, sì Lei è contenta Quando Quando la mettono al centro Dell'attenzione Lei è sempre contenta Ok, signorina Siamo arrivati nei pressi Della stazione Ottimo E non sarebbe male poi Fermarci anche A fare gasolio Dov'è il telepass? Qua No Non è qua il telepass Vabbè Pazienza Pazienza Signorina Si fermi Che se gli tiriamo giù la sbarra Sti qua ce la fanno pagare per nuova Ok Possiamo muovere Direi di sì E signorina Abbiamo fatto l'ennesimo casino Guardali E la frittata fu fatta Però abbiamo danno solo al trattore Non abbiamo danno a nient'altro Ok signorina C'è il benzinaio Fermiamoci Facciamo gasolio Che siamo quasi a secco E non ci arriveremo mai Con questo gasolio A destinazione Ok signorina 815 litri Per 1150 euro Perfetto Vabbè Abbiamo speso sempre meno che in Italia Ok Possiamo muovere Direi di sì Signorina Un altro selfie Abbiamo un'altra macchina fotografica qua Perfetto Fermiamoci Fermiamoci Che le faccio la fotina Ok Ponte Varod Non so perché ce l'hanno messo Avrà qualche interesse storico Sicuramente E comunque non è male Come location Assolutamente Ok spostiamoci un pelino Più così Va Ecco guardi Che bella fottina Che le ho fatto Ok Signorina Torniamo al nostro lavoro Grazie Ok Devo dire Che comunque Come paesaggio Non è niente male Eh vabbè C'è una salita Eh ma l'anima Mi sembra Mi sembra giusto Mi sembra giusto Ma vai a fare un culo Anche a te Signorina Questo viaggio Sta diventando un disastro Eh C'è la stazione Ce la facciamo A prendere il telepass Vediamo Ah ho capito Quanti tre volte Allora Io direi che è semplicemente Spettacolare Sto paesaggio Bah che spettacolo Che non è È veramente qualcosa Di meraviglioso Assolutamente Sì 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 Quanto vorrei esserti Viverti Purtroppo non si può Eh Sì Pazienza Signorina Torniamo in cabina Torniamo nel nostro Valle di lacrime Eh Signorina Io Non 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 ho parole Non Non lo so Non lo so Signorina Per una volta Noi non Ci entriamo O niente Ah Ah Ma Bello E chi l'aveva vista Signorina Andiamo dietro Tanto di qua Non dovrebbe arrivare Nessuno Ecco Signorina Non cominci a rugnare Perché non è il caso È una giornata Oggi Io glielo dico Allora Io Io Non Non ho parole Ragazzi Se vi levate bene Perché se no Vi faccio levare io Ok Signorina Ci mancano 400 chilometri L'arrivo Più o meno E cinque ore Ancora di strada Da fare Speriamo di arrivare Presto Perché questo viaggio Sta diventando Veramente pesante Ecco Sì In tutti i sensi Eh Allora Io lo sapevo Che sto qua Si buttava Così A Adminchiam E ho iniziato E ho iniziato A frenare Appena ho visto Che c'era Il Il lampeggio Non ho fatto bene Di più Signorina Siamo levemente Proprio Contromano Eh Io la butto lì Io la butto lì Sì sì Facciamo una frittata Incredibile adesso Guarda Sta a vedere eh Sta a vedere Che frittatone Sta a vedere Che frittatone Che facciamo No Si è andata di culo Signorina Ma non capiterà mai più Una cosa del genere Io glielo dico E merda Sto qua Se ti fa passare Eh E va Fanculo Te limiti di velocità Non me ne frega niente Dei limiti di velocità Madonna Eh Piantala Urto Velocità Di tutto e di più Qua cosa c'è Dobbiamo andare dritti Sì Ok Signorina 90 chilometri E siamo arrivati Finalmente Alleluia Ok Qua dobbiamo tirare Sì a destra A sinistra A sinistra Inizio a dare i numeri Anch'io Signorina E arrivano di nuovo Su due ruote Lo sappiamo Vero Sì lo sappiamo Signorina Ma siamo di nuovo A secco E siamo tanto A secco E chi l'aveva visto Oh cazzolina Vabbè Siamo comunque Arrivati Eh Ma quanto cacchio Di gasolio Abbiamo consumato Non abbiamo mai Consumato così tanto Allora Signorina Per fortuna Siamo arrivati Speriamo che ci sia Un distributore Perché se no Ciao Spinge Spinge a lei Tanto voglio dire Dimagrisce un po' Fa un po' Di ginnastica Ok Signorina Siamo arrivati Sì Però stavo notando Che Non c'è neanche Un benzinaio Qua Ma stiamo scherzando Vabbè Vabbè Pazienza Signorina Intanto Entriamo qua Finalmente Siamo arrivati Finalmente Veramente Ok Ciao Buongiorno Buonasera Buonanotte Siamo arrivati Ecco Sì Ok Dov'è che volete Sto coso Ah lì dietro Va bene Ce la faremo Con tutto il poco gasolio Che abbiamo Mmm No sì Ce n'abbiamo Ancora un po' Eh Pensavo Pensavo Forse più tragica Oddio Non è che dobbiamo Sì Ecco Però Via Ok Signorina Cerchiamo di fare Un po' Una manovra Come si deve Ci abbiamo L'asse sterzante Anche dietro Quindi Ci aiuta Non tanto Di più E la cosa Al momento Potrebbe non farmi Nemmeno troppo schifo Anche se io Sinceramente Non è che li Adoro molto A questo tipo di Di semi rimorchi Signorina Aderizza tutto Grazie Prima che Te Più Adritto Più dritto Più dritto Mordritto Vabbè Diciamo che Gli può andare Benissimo Anche così E infatti Guarda un po' Siamo anche Mezzideritti Ok signorina Mi spenga tutto Tipo Me li stacca Le ampeggianti Stanno diventando fastidiosi Grazie Tiriamo il freno A mano E stacchiamo tutto Guarda le zampettine Che vanno giù Andiamo a vedere Cosa abbiamo fatto Allora Un trasporto Eccellente Infatti Tutti i danni Ci erano Noi sul trattore Abbiamo guadagnato 45.000 E 1.500 Pun 1.600 Punti Esperienza Abbiamo consumato 1080 litri Di gasolio Mi domando Come mai Così tanto E per ora Fermiamoci qua Siamo riusciti a portare a termine Questo viaggio Che è stato Un disastro Assoluto Sì Non si può dire In modo diverso È stato veramente Disastronico Nei prossimi episodi Vedremo di girare Ancora un pochino Per qua Perché Non ci capiteremo Praticamente mai più Sono dei posti Che sono veramente Belli A vedersi Hanno degli scenari Veramente favolosi Comunque Se il video vi è piaciuto Mettete like Condividete Iscrivetevi al canale Fate quel cazzo che volete Tanto me lo sapete E noi se vorrete Ci vedremo in un prossimo episodio Ciao ciao Ciao